Sarà ancora una volta la splendida cornice a oltre 1300 metri sul livello del mare di Rivi Zondoli a ospitare il ritiro estivo del Pescara. Scenari quelli dell'alto sangro e dell'alto piano delle 5 miglia per la preparazione al prossimo campionato di Serie B. Un gruppo, quello bianco-azzurro, che rispetto alla scorsa estate sarà decisamente diverso rispetto a quello in via di definizione che l'anno passato si preparava al massimo campionato di calcio. Questo perché il mercato corre veloce e il DS Repetto, se possibile, va anche più spedito. Ha già messo in cascina i siti parecchi elementi che saranno l'ossatura del Pescara che sarà. Gli ultimi, quelli di Paolo Frascatore, difensore esterno classe 92 di proprietà di Quella Roma, con cui, grazie al ritorno in giallo-rosso di Gianluca Caprari, è stato messo in piedi e poi concluso un maxiscambio che in Abruzzo ha portato Piscitella, lo stesso Frascatore, Viviani e Politano. Un poker di arrivi a cui vanno aggiunti i parmenzi Schiavi e Rossi per il reparto arretrato e Fabio Caserta, destinato a prendere l'eredità del partente Cascione. In mediana, rinnovata la comproprietà di Raguse ed esercitato il diritto di opzione per Rizzo, che rimane il rival adriatico, mentre per Val di Fiori ormai sembrano essere tramontate le possibilità di vestirlo in maglia pescara. Torneranno Romagnoli e Nilsen, Selic invece, a Rivisondoli, arrivò a ritiro iniziato dopo una settimana e ora invece è destinato a partire verso la Turchia. Seconda operazione in uscita, dopo quella a Caprari, in attesa delle altre, che riguardano Cascione e Birker-Biarnason. Kroldrup, arrivato nella finestra invernale di mercato, il settimana dovrebbe dare una risposta che sia definitiva. Alcuni mesi fa il danese non sembrava particolarmente convinto di scendere nella cadetteria, ora invece, forse convinto dall'ambizioso progetto bianco-azzurro, sembra tentennare con una propensione verso il sì. Il più complicato da piazzare però sembra Ante Vukusic, che ha rivisondoli in Anselin o mai, perché il croato sbarcò in Italia a settembre. In estate, infatti, fu protagonista con l'Aiduk Spalato nei preliminari contro l'Inter. Il 10 si parte per l'Alto Sangro, poi le prime uscite amichevoli. Marino probabilmente avrà il gruppo pressoché al completo, manca ancora qualche tassello, si lavora per Cutolo e Catellani. Per quest'ultimo c'è già l'intesa, ma prima ci vogliono le cessioni, perché il mercato corre veloce, è vero, ma i conti devono tornare, sempre.